Il mio nome è Gabri Costa ragazzi, datemi bene a sentire, ve lo dirò una sola volta. La cosa funziona così, in questo Injustice Gods Among Us, Killer Frost sta usando la torre di guardia per congelare la terra, ma qualcosa non va, il caldo le fa perdere salute, mentre il freddo la guarisce. Ho dimenticato di dirvi che questa è una missione Star Lab, per la nostra donna di ghiaccio. E non ci capisco più nulla ragazzi, non so se mi piace il caldo o il freddo. Però dobbiamo cercare di vincere, bisogna battere il nostro avversario, Black Adam. Quando vedete quel robot volante, saltate e premete R1 per prenderlo. Eccoci, ora succede una grossa scemenza, fa la rigenerazione salute Black Adam, io volevo vincere. Ma perché 30% rigenerazione salute? Ah, scusatemi, sono andato nel pallone, mi sembra che abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Scusate se a volte vado nel pallone, sono cose che possono accadere. Pensavo che si continuava la missione, invece no, basta, abbiamo finito. Killer Frost è la vincitrice.